Ciao a tutti, sono Laura Bubani, in arte viva. Sono una pittrice e decoratrice. Sono formata in arti murali e decorazioni di interni e troppo due. Lavoro su commissioni, nel tempo ho realizzato diverse opere, sia per negozi che per privati. Principalmente la mia arte è ispirata alla natura. Quando dipingo soprattutto i murales esterni, mi ispiro sia all'ambiente e soprattutto anche al passato. Infatti la mia pittura evoca proprio i tempi antichi. Oltre, ripeto, ai miei dipinti che io amo fare, perché oltre ai murales faccio anche a ritratti, faccio decorazioni anche su sfere di vetro soffiato e ultimamente ho fatto un corso molto importante di meridiane dell'ora solare presso le terre stabine e nel Lazio, dove ho imparato proprio come poter realizzare la meridiana. E in più realizzo per i interni tantissimi lavori, tantissime opere. La mia passione mi ha portato sempre a cercare soprattutto l'ispirazione nella natura. e attraverso la natura mi identifico proprio. I miei dipinti si identificano. Uso varie tecniche, ma soprattutto per i murales uso acrilici con la tecnica del prompt l'oeil, quindi della prospettiva. Sono molto soddisfatta di quello che ho realizzato finora. Ho sempre dipinto un po' in ombra, perché ho fatto un altro lavoro nella mia vita, ma ho sempre portato avanti la mia passione. Ho in serbo proprio un sogno, che è quello di poter realizzare una mia scuola di arte creativa e arte intuitiva. Il discorso che sto portando avanti da 6-7 anni con la mia insegnante e questo mi ha fatto proprio cambiare anche il mio modo di rivolgermi alle persone quando mi chiedono delle opere. proprio si entra in empatia e grazie proprio all'energia del colore che è proprio lei che scatena la nostra creatività, porto avanti la mia arte proprio in un altro modo, un modo molto più emozionante e sensibile, ancora più sensibile. Quindi spero di poter ridire al più presto quando sarà e poter comunque insegnare, ma neanche insegnare, stare assieme alle persone per portarli proprio l'amore del colore.